Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di G News, l'informazione quotidiana di Super G, la cronaca in primo piano ci porta nelle Marche, tenta di uccidere la moglie in campeggio mentre sono in vacanza con uno colpo d'arma da fuoco, la donna di 39 anni di origine romana è stata colpita al torace ed è stata trasportata prima all'ospedale di Fermo e poi a quello di Torrette dove si trova in condizioni disperate, l'arma non è stata trovata, l'uomo è stato arrestato per tentato omicidio vicenda che si è consumata ieri sera a Marina Palmenze di Fermo, i dettagli nel servizio Dramma ieri sera in un campeggio di Marina Palmenze, un turista di Foligno di 49 anni al culmine di un violento litigio ha sparato alla moglie la donna, 39 anni, di origine romena, ridotta in fin di vita, è stata soccorsa e trasportata in ospedale in nottata è stata trasferita al nosocomio regionale Torrette ed è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico le sue condizioni sono gravissime l'uomo è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Fermo con l'accusa di tentato omicidio erano da poco passate le 21 quando i due hanno iniziato a discutere per motivi di gelosia alcuni campeggiatori hanno sentito le urla, un violento litigio e poi tre colpi di pistola sparati in sequenza ravvicinata subito si è capito che era successo qualcosa di grave e una volta compresa la portata della tragedia è stato dato l'allarme al 118 sul posto si sono precipitati i volontari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio e i sanitari che hanno soccorso la donna ferita gravemente è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale in condizioni disperate l'uomo è stato bloccato dai carabinieri e arrestato la coppia da tempo con gravi problemi è separata di fatto ha un figlio di 13 anni anche lui ieri si trovava in campeggio ma non ha assistito alla sparatoria proprio in virtù dei problemi familiari all'uomo era stato interdetto l'uso e la detenzione di armi la pistola dunque non poteva possederla in tarda serata è arrivato sul posto anche il magistrato di turno che coordina le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di fermo guidata dal capitano Pasquale Zaccheo restiamo nelle marche ma ci spostiamo a San Benedetto una donna di 41 anni si è tolta la vita intorno alle 16 buttandosi dal quinto piano dell'ospedale Madonna del Soccorso a San Benedetto del Tronto la donna secondo le prime ricostruzioni era sofferente da un po' di tempo sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia di San Benedetto per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia la vittima non risultava tra i ricoverati appunto dello stesso ospedale San Benedettese tragedia sulle strade della Val Vibrata ieri sera finisce con il suo scooter contro un'auto che procede in senso opposto e muore praticamente sul colpo l'infinita scia di morti sulle strade abruzzesi si allunga ieri sera infatti poco dopo le 20.30 a Sant'Egidio è morto Emilio Di Egidio 48 anni del posto invalido già vittima qualche anno fa di un identico incidente l'impatto mortale è avvenuto su via Cesare Battisti la strada provinciale di collegamento con Ancarano lo scooter dell'uomo è finito contro una BMW condotta da un compagno di infanzia dello stesso scooterista che procedeva in senso opposto il frontale è stato violento e per il 48enne non c'è stato nulla da fare l'incidente come detto si è verificato in prossimità di un incrocio lungo la provinciale leggermente ferito il conducente dell'altra vettura sul posto per i rilievi di rito è arrivata la postrada di Giulianova di nuovo nelle Marche per l'altra tragedia della domenica che è ancora ricoverato in ospedale Luca Giustini il 34enne di Ancona arrestato per aver ucciso a coltellate la figlioletta di appena 18 mesi l'uomo era stato portato in ospedale perché è apparso in stato confusionale gli investigatori sono ancora in attesa che venga fissata l'udienza di convalida ancora ignoti i motivi per cui l'uomo un dipendente delle ferrovie ha colpito più volte con un coltello da cucino alla piccola mentre era nella culla al servizio Luca Giustini è stato ricoverato ieri in tarda serata nel reparto di psichiatria dell'ospedale regionale di Torrette ed è sorvegliato a vista l'uomo, 34 anni, dipendente delle ferrovie arrestato per aver ucciso a coltellate la figlioletta di 18 mesi potrebbe commettere atti autolesionistici una volta presa coscienza delle sue azioni in caserma dove è stato sottoposto a un primo interrogatorio è apparso in stato confusionale ancora ignoti quindi motivi per cui ha colpito più volte con un coltello da cucina la piccola mentre era in culla una le ha trapassato il torace all'altezza del cuore Giustini doveva raggiungere la moglie Sara Bedini, infermiera all'ospedale regionale di Torrette l'altra figlioletta di 4 anni e mezzo e alcuni parenti che erano già in spiaggia a Palombina e stava aspettando che la piccola si svegliasse poi però è accaduto qualcosa un raptus, un momento di follia e il giovane padre ha infierito con il coltello sulla piccola trapassandole il torace dopo il massacro è stato lui stesso ad avvisare la moglie al cellulare dicendole che era accaduta una cosa gravissima la moglie è corsa a casa insieme a suo padre ha scoperto la tragedia nel frattempo sono arrivati i carabinieri che hanno la stazione proprio di sotto all'abitazione e i soccorritori inviati dal 118 ho lasciato il coltello sul tavolo perché si ammazzasse ha urlato disperata mentre i militari portavano via il marito e i sanitari cercavano in vano di salvare la piccola restiamo su questa tragica vicenda quella di Luca Giustini il 34enne come detto arrestato per aver ucciso a coltellate la figlioletta Alessia di 18 mesi stava male da tempo era depresso e piangeva lo racconta a Lanza Brunella Michelini la madre di Luca che ha incontrato il figlio ieri mattina poche ore prima della tragedia era come se fosse venuto a dirmi addio abbiamo pregato assieme gli ho detto Luca che fai devi farti vedere da un dottore avevo paura che potesse tentare il suicidio ma mai avrei immaginato quello che in realtà è accaduto di nuovo in Abruzzo con la crona con un'automobilista di 28 anni è rimasta gravemente ferita un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 16 tra Francavilla al mare e Montesilvano l'auto in cui la donna perso il controllo è finita contro il muro laterale in cemento della carreggiata all'ingresso della galleria San Silvestro all'ertale del 118 sono stati alcuni automobilisti di passaggio la giovane è stata poi trasferita in ambulanza all'ospedale di Pescara dove è stato riscontrato un grave trauma di natura toracica ancora nelle Marche minaccia il suicidio per una delusione d'amore ma viene salvato dall'eliminato intervento di polizia ai vigili del fuoco è successo attorno alle 11 al parco del Cardeto ad Ancona dove un giovane aveva scavalcato la staccionata sporgendosi sull'orlo del precipizio eliminato intervento delle forze dell'ordine ha però scongiurato la tragedia perché il giovane è stato afferrato e riportato al sicuro in stato di agitazione per questo è stato trasportato al pronto soccorso da un equipaggio del 118 paura a cupra manittima restiamo nelle Marche dove una bimba di due anni è rimasta chiusa all'interno di un'autovettura i genitori erano infatti appena usciti dalla macchina lasciando le chiavi all'interno per motivi ancora non chiari subito dopo la chiusura le portiere sarebbero scattate i genitori della piccola estremamente spaventati hanno subito chiamato i vigili del fuoco di Samenetto del Tronto che si sono precipitati sul posto hanno utilizzato un attrezzo costruito specificatamente per aprire le portiere dell'auto in queste situazioni in circa 10 minuti la bimba è stata liberata ha potuto riabbracciare i propri genitori ad Alba Adriatica ora un ciclista è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi sul lungomare Marconi mentre stava attraversando le strisce pedonali l'impatto che è costato al ciclista un ricovero in ospedale per effetto di alcuni traumi è avvenuto in corrispondenza con l'incrocio di Viale Mazzini il conducente della vettura che procedeva in direzione nord è finito poi contro uno scooter parcheggiato ai margini della carreggiata il ciclista è stato soccorso all'ambulanza del 118 mentre sul posto per i rilevi del rito sono arrivati i carabinieri a Silvio ora dove nella notte è stato sventato un furto alla farmacia comunale tre ladri infatti sono stati sorpresi da una guardia notturna mentre cercavano di bucare la parete laterale da un locale adiacente alla farmacia dopo aver divelto anche la porta con un piede di porco per poter arrivare alla cassaforte dello spaccio farmaceutico da pochi mesi trasferito nel complesso residenziale Le Dune i tre malviventi sono riusciti comunque a darsi alla fuga con tutti gli arnesi utilizzati per praticare il foro sulla parete a Pescara ora un 21enne pescaresi è stato arrestato dal personale della Digos perché avrebbe lanciato dei petardi nella curva nord ieri sera in occasione della prima gara di Coppa Italia tra Pescara e Renate complessivamente sono stati lanciati sei petardi di cui quattro in campo e due sugli spalti il giovane deve rispondere di lancio materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive il giovane poi in giornata è stato processato sarà ovviamente gravato da Daspo ed è stato rimesso in libertà in attesa del processo fissato per il prossimo 22 di settembre di nuovo nelle marche con la cronaca giro di vite per le slot machine irregolari e loro titolari a Samenetto del Tronto emesse dal dirigente comunale infatti due ordinanze di sospensione di licenze per cinque giorni nei confronti di un rappresentante di slot dopo i verbali elevati in due locali della cittadina la prima ordinanza riguarda un apparecchio installato in uno chalet risultato irregolare in quanto erogava premi superiori ai 20 euro lo stesso rappresentante è poi in corso una medesima sanzione a causa dell'apparecchio barbecue presente in un'agenzia slot machine ormai i controlli su queste macchine agenzie dedite al gioco d'azzardo sono sempre più serrati una vera propria lotta alle scommesse che sono poi alla base delle crisi economiche di intere famiglie ancora in Abruzzo tre napoletani sono stati arrestati dai carabinieri la scorsa notte a Montesilvano dopo essere stati trovati in possesso di pistole arnesi atti allo scasso un lampeggiante altro materiale in uso alla guardia di finanza con ogni probabilità i tre stavano architettando un colpo in zona torniamo in Val Vibrata protesta questa mattina davanti al comune di Martinsicuro da parte di un centinaio di Vucumpra che protestano ovviamente per i controlli serrati sul litorale una delegazione poi stata ricevuta anche dal sindaco Paolo Camaioni dettagli nel servizio i Vucumpra che battono il litorale in estate alzano la voce si danno appuntamento davanti al comune di Martinsicuro per manifestare tutto il proprio dissenso di fronte all'offensiva anti-abusivi in corso in questi giorni un centinaio di venditori ambulanti di varie nazionalità marocchini nigeriani senegalesi e bengalesi hanno messo in scena questa mattina un sit-in di protesta sotto la sede del comune di Martinsicuro in via Aldomoro protesta originata dalla raffica di controlli multe e sequestre che negli ultimi giorni hanno interessato la fascia costiera su precise disposizioni da parte della prefettura la protesta è stata civile nei toni sotto il controllo vigile dei carabinieri di Martinsicuro e degli agenti della Digos gli unici momenti di tensione sono stati prodotti dalle proteste di alcuni residenti e commercianti che hanno chiesto che i manifestanti fossero allontanati dall'ingresso del comune successivamente una delegazione di Vucunprà è stata ricevuta dal sindaco Paolo Camaglioni che ovviamente non ha potuto che ribadire la necessità di dover effettuare i controlli nel rispetto delle leggi vigenti in materia gli extracomunitari hanno chiesto di allentare la pressione dei controlli e chiederanno udienza nei prossimi giorni anche al prefetto di Termo quella che è una delle emergenze estive ossia la presenza di Vucunprà sul litorale dunque si arricchisce di un capitolo nuovo con la protesta silenziosa degli stessi venditori che chiedono solo di poter vivere in Abruzzo nel Terramano diventano irrevocabili le dimissioni del sindaco di Pietracamela Antonio Di Giustino il prefetto di Teramo nomina il commissario prefettizio le dimissioni infatti rassegnate dal sindaco lo scorso 29 di luglio non sono state revocate a svolgere le mansioni commissariali sarà il vice prefetto Vicario Silvana D'Agostino il consiglio comunale dell'importante località turistica Piedi del Gran Sasso era stato eletto il 7 maggio del 2012 nelle Marche ora per fare il bilancio del post Ferragosto infatti nella città delle 100 torri si traccia un primo bilancio del Ferragosto appena alle spalle i commercianti a Scolani sono divisi tra chi si dichiara soddisfatto e chi invece si aspettava di più dal periodo estivo quest'anno molto incerto anche da un punto di vista meteo i dettagli nel servizio di Cristiano Pietro Paolo e Vincenzo Ingiulla anni fa durante il periodo di Ferragosto le città si svuotavano e si riempiono invece le spiagge e luoghi di villeggiatura ma ultimamente anche a causa della crisi le cose sono cambiate ad Ascoli anche se da una parte molti hanno scelto le vicine località di montagna o di mare dall'altra molti turisti hanno animato il centro della città delle 100 torri durante gli eventi estivi abbiamo chiesto un parere ai commercianti piceni come è andato fra la notte bianca e Ferragosto il periodo clou diciamo dell'estate Ferragosto è andato bene un po' meno negli altri anni ma non ci possiamo lamentare la notte bianca un po' meno hanno finito presto le solite attività tutto chiuso alle 3 però è andata bene anche quest'anno cosa chiedete per le prossime edizioni anche per i prossimi ponti festivi di continuare allungare comunque la programmazione degli eventi l'orario un po' più lungo e soprattutto di avere un programma per riferirlo anche ai clienti proprio la notte bianca proprio non ho niente era passato proprio senza nessuno proprio non ho come veramente dico 4 anni fa 2 anni fa proprio qui la Casino quest'anno invece proprio nessuno nessuno proprio Ferragosto? Ferragosto proprio zero proprio zero proprio tutti là verso il mare andato scappati verso il mare proprio anche la sera? anche la sera proprio tutti verso il mare diciamo la montagna tutte quante scappate di là quella proprio zero sperate di rifarvi dopo? dopo non lo so come è andata questo periodo quest'estate per voi? ma tutto sommato bene insomma tenendo presente che sono state fatte diverse manifestazioni quindi c'è stato movimento l'afflusso turistico comunque rispetto anche agli altri anni sempre più viene cioè sembra che incrementa di anno in anno quindi penso che sia andato tutto sommato bene secondo voi c'è bisogno che ci siano altri eventi o altre iniziative per un po' rianimare? penso che gli eventi siano il fulcro comunque perché se non ci sono gli eventi penso che non che richiamano comunque il turista dalla costa penso che non Ascoli ancora ha fatto poco per il turismo quindi diciamo che vengono i turisti di riflesso quindi c'è più affluenza però non in maniera tale da poter vivere di turismo come forse molti politici vorrebbero quindi però vabbè tutto sommato insomma si fa veniamo lavorando come è andato il ferragosto rispetto agli anni passati c'era più o meno gente è andata bene? c'era abbastanza gente però in confronto agli anni passati un pochino di meno questo anche a causa della crisi economica che sta sentendo l'Italia in generale la manifestazione che è finita da poco a Scoliva ha portato comunque persone? si ha portato abbastanza persone e a quanto pare gli incasti sono stati anche superiori in confronto a quelli degli anni passati Restiamo all'Ascoli ma cambiamo argomento si complica l'avvertenza Coalac l'azienda ha deciso infatti di trasferire i dipendenti in altri stabilimenti del gruppo lasciando dunque forti dubbi sul sito ascolano il vicepresidente della regione Marche Antonio Canziane si rivolge direttamente ai lavoratori per spiegare cosa si sta facendo per salvare il loro posto di lavoro e servizio anche il vicepresidente della regione Marche Antonio Canziane interviene nel dibattito in merito al futuro dello stabilimento Coalac di Ascoli obiettivi concreti che rischiamo di perdere tutto così l'esponente del PD in una lettera rivolta ai lavoratori del sito ascolano sapete bene scrive che il punto di partenza della vicenda è stata quella di chiudere lo stabilimento di Ascoli e trasferire i dipendenti agli esi a mandola la regione è intervenuta subito costringendo l'azienda a soprassedere e convincere la proprietà su tre priorità la valorizzazione del latte fresco marchigiano la salvaguardia del sito produttivo di Ascoli e la tutela dei dipendenti nonostante l'impegno in prima persona del presidente spacca continua Canziane la Copperlat si è dimostrata irremovibile nella sua decisione adesso la regione ha preteso e ottenuto che il sito ascolano rimanesse produttivo mantenendo tutti i posti di lavoro questa è la nostra posizione prosegue Canziane e ora attendiamo una risposta da parte dell'azienda anche una credibile proposta di riconversione del sito produttivo il vicepresidente della regione Marche però non nega difficoltà oggettive dovute al fatto che anche all'interno dell'azienda c'è chi sta cercando una soluzione ragionevole rispetto a chi invece vuole uno sconto frontale non tener conto di questo contesto significa vivere in un altro pianeta continua Canziane il vicepresidente ricorda inoltre che c'è anche chi svolge un ruolo che porge l'asticella ad un livello che non verrà mai raggiunto solo per poter dare la colpa all'insuccesso a qualcun altro a chi fa questo aggiunge Canziane ricordo che ci sono 23 lavoratori con altrettante famiglie a carico chi ha una responsabilità istituzionale deve provarle tutte ma puoi capire dove si può arrivare per non perdere tutto in questo caso continua Canziane la produttività lo stabilimento scolano e l'occupazione di tutti i 23 lavoratori da Ascoli a Porto Sant'Elpidio sarà presentato alla cittadinanza il prossimo 25 di agosto il progetto di riqualificazione della pineta nord che negli ultimi anni a causa delle intemperie in maniera particolare della eccezionale nevicata del 2012 aveva subito grossi danni nella casa del volontariato a partire dalle 21.30 l'amministrazione comunale illustrerà infatti il progetto volto a riqualificare e implementare il patrimonio arborio della città con la messa a dimora di ben 350 piante la pineta di maniale di Porto Sant'Elpidio spiega al sindaco Nazareno Franca e Luce tre patrimoni arbori più importanti della nostra regione ma ha 60 anni di vita ha bisogno di manutenzione e di nuove piantumazioni perché il ciclo di vita di un pino d'Aleppo di un pino marittimo si aggira attorno agli 80 anni e non è stato ancora creato ovviamente dice anche in maniera ironica un elisir di immortalità con la sanità torniamo in Abruzzo nomina del nuovo manager all'AS di Teramo la funzione pubblica della CGL chiede risposte alla regione sui ritardi nella scelta del direttore generale che dovrà prendere il posto del dimissionario Paolo Rolleri dal 1 agosto la nostra AS priva del suo manager spiega una notte il segretario provinciale della funzione pubblica Medeo Marcattili perché la regione ad oltre un mese di dimissione di Rolleri ancora non nomina il suo sostituto si interroga il sindacalista il segretario torna anche sul progetto di accorpamento dell'azienda sanitaria con quella aquilana siamo sicuri che questa sia la soluzione ottimale per la nostra sanità continua Marcattili perché questo silenzio assordante da parte di chi dovrebbe avere a cuore una sanità migliore a servizio dei cittadini la sanità della nostra provincia ha tanti problemi lasciati irrisolti dai passati amministratori aggiunge Marcattili ogni giorno gli utenti se ne rendono conto di persona quindi si chiede alla regione nel caso di specie di intervenire su questo aspetto con la politica ora dopo aver trascorso il suo compleanno lo scorso 2 di maggio nella sua terra Marco Pannello torna in piazza in Abruzzo a Taranta Peligna nel Chietino domani martedì 19 agosto alle 18 in piazza San Biagio per tenere un comizio con lui oltre al sindaco del comune abruzzese Marcello Di Martino e al direttore di Radio Radicale Alessio Falconio è data la presenza anche del governatore della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso saranno presenti anche Matteo Angioli consigliere generale del partito radicale Laura Arte Vincenzo Di Nanna e Ariberto Grifoni di Amnistia Giustizia Libertà Abruzzo con la politica torniamo nelle Marche consigliere comunali del Movimento 5 Stelle di Ascoli Massimo Tamburro e Giacomo Manni presentano una mozione per il censimento degli edifici con lo scopo di individuare le strutture realizzate in amianto gli esponenti dei pentastellati chiedono inoltre che si proceda con la bonifica delle zone interessate dal pericoloso materiale del servizio di Cristiano Pietro Paolo e Vincenzo Ingiulla Il Movimento 5 Stelle in campo contro l'amianto in una mozione presentata dai consiglieri comunali del gruppo pentastellato Giacomo Manni e Massimo Tamburri si sottolinea come in Italia ci siano ancora 23 milioni di tonnellati di amianto presenti negli edifici e è stata già dimostrata la pericolosità di tale elemento che provoca gravissime malattie come l'asbestosi i consiglieri 5 Stelle sottolineano anche il fatto che la pericolosità della fibra di amianto non è soltanto circoscritta al momento della produzione ma peggiora quando il manufatto che la contiene si deteriora sbriciolandosi e disperdendosi nell'aria l'unica vera azione di prevenzione continuano i due consiglieri è la messa in sicurezza la rimozione e la sostituzione di manufatti che non deve essere lasciata soltanto ai privati si chiede dunque l'impegno a promuovere di intesa con gli altri enti competenti in materia di promuovere un censimento della presenza di edifici pubblici e privati che contengono amianto al fine di conoscere l'ubicazione e valutarne le condizioni di conservazione si chiede anche un piano di bonifica di messa in sicurezza e di rimozione basato su una sinergia tra privati imprese specializzate e certificate enti pubblici centro regionale amianto e anche la regione Marche Massimo Tamburri e Giacomo Manni evidenziano inoltre che questo censimento servirà anche a rilevare i quantitativi esistenti in modo che lo smaltimento potrà essere controllato seguito nelle sue fasi da parte di tutte le amministrazioni future a Silvi ora dove i genitori si tassano per salvare la prima elementare a Silvi Paesi infatti riaprirà regolarmente a settembre la prima classe della scuola elementare del plesso scolastico di Silvi Paesi dopo che per mesi si era temuto lo spostamento dei bambini in altre sedi per l'esiguo numero di iscritti a darne notizia del comune il salvataggio in extremis della prima classe è stato reso possibile grazie alla mobilitazione delle famiglie del borgo che hanno fatto in modo che altri bambini di Silvi Marina e delle frazioni si iscrivessero nel plesso del paese con l'impegno di coprire autotassandosi con una raccolta di fondi tutte le spese per il relativo trasporto scolastico a San Benedetto anche in Riviera arriva la spiaggia per cani infatti dando seguito a ripetute richieste avanzate negli anni dall'amministrazione comunale il comandante della capitale di Porto capitano di fregata Sergio Lopresti ha firmato lo scorso 14 di agosto l'ordinanza con cui si consente a titolo sperimentale fino al termine della stagione balneare l'accesso dei cani nella spiaggia a nord del bacino portuale il provvedimento stabilisce che sia a carico del comune la predisposizione di tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare una serena convivenza tra animali e fruitori della spiaggia non appena avuta la positiva notizia dice il sindaco di San Benedetto Giovanni Gasper ci siamo attivati per far svolgere una polizia più approfondita dell'area per far posizionare contenitori per la raccolta differenziale per i rifiuti che invece vanno in discarica inoltre abbiamo raggiunto un'intesa con un'associazione animalista l'amico fedele che aveva già manifestato ufficialmente la sua disponibilità a svolgere un servizio di questo tipo perché si occupa della gestione dello spazio fino al termine dell'attuale stagione balneare la pagina degli eventi ora torniamo in Abruzzo il rione Terravecchia a Tortoreto nella fattispecie dopo una serie di sfide con i rivali di Terranova si è giudicata la quattordicesima edizione del Palio del Barone confermandosi prima nell'albo d'oro con otto successi contro sei degli storici rivali gli atleti dei due rioni storici Terravecchia che avevano come simbolo la Tortora e i colori bianca-azzura e quello di Terranova con l'emblema del Corvo i colori bianco-verde si sono sfidati in antichi giochi medievali per conquistare il drappo realizzato quest'anno dall'artista Gabriele Scartozzi di San Benedetto poi consegnato la manifestazione si è aperta con un maestoso corteo storico di oltre 400 figuranti provenienti da varie parti d'Italia Marche Umbria ed Abruzzo per l'edizione 2014 del Palio del Barone cambiamo argomento ci torniamo restiamo in Abruzzo cantautori italiani folk e jazz sono i generi musicali che si alterneranno a Rocca Scalegna in festival si concentrano in quattro giorni consecutivi dal 19 al 22 di agosto gli spettacoli in cartelloni per la 17esima edizione della rassegna musicale organizzata dalla Proloco con il sostegno dell'amministrazione comunale e alcuni sponsor privati l'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa a Pescara in regione dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso dal sindaco di Rocca Scalegna Domenico Gian Giordano e dal presidente della Proloco Silvano Gian Giordano in servizio Presidente Rocca Scalegna in festival la 17esima edizione è una dimostrazione di come i piccoli centri dell'entroterra della nostra regione in questo caso del Chietino si danno da fare per movimentare un po' anche il turismo ma siamo davanti ad un'eccellenza intanto perché sono diversi anni 17 edizioni all'insegna della qualità di un prodotto in questo caso prodotto cultura prodotto evento prodotto bellezza la bellezza dell'entroterra la bellezza delle vedute che Dio ci ha consentito io credo che il turismo di questa regione è alimentato e nutrito da queste iniziative che mettono in campo la vitalità della comunità la vitalità della cultura l'effervescenza anche delle giovani generazioni e tutto quello che può consentire ad un territorio come il nostro di essere percepito come irripetibile desiderabile e immaginabile io sono venuto a testimoniare il significato per Regione Abruzzo della iniziativa che si tiene ormai da 17 anni a Rocca Scalegna e l'anno prossimo di sicuro eleveremo ulteriormente la qualità avendo attenzione che ogni anno ci sia a sua maestà il fatto nuovo prende avvio domani al Santuario di San Gabriele la 34esima edizione della Tendopoli con il tradizionale saluto alle 18.30 del Vescovo Michele Pseccia del Padre Provinciale dei Passionisti Pier Giorgio Bartoli del Rettore del Santuario Padre Natale Panetta la Tendopoli che da ben 18 anni ha varcato i confini del Venezuela da 5 quelli della Colombia quest'anno ospiterà dei ragazzi provenienti proprio dal Venezuela la 34esima Tendopoli che si svolgerà come detto da domani 19 agosto fino al 23 affronterà il tema delle periferie periferie grembo della tenda di Dio che trae spunto appunto da una riflessione di Papa Francesco per presentare la tendopoli ha spiegato Padre Francesco Cordeschi ideatore e animatore appunto dell'iniziativa stessa l'icona che mi affascina di più la Vergine Maria una donna di periferia che è diventata grembo di Dio Nazareth era infatti una destinazione assolutamente sconosciuta sulle cartine geografiche bibliche una periferia estrema che è diventata significativa dice ancora Padre Cordeschi proprio in seguito a questa scelta da parte di Dio ancora con le iniziative torniamo nelle Marche in tempi di crisi del turismo e polemiche per la sua gestione a ricordarci che siamo attorniati da autentici gioielli ci ha pensato il The Guardian diffusissimo quotidiano inglese che domenica 17 agosto ha voluto dedicare due parole al Parco Nazionale dei Monti dei Sibilini descrivendone la bellezza e la particolarità che avvolgono questi monti dalla piana di Castelluce a innumerevoli sentieri battuti e non con viste panoramiche e pochi angoli in Europa possono vantare nell'articolo vengono poi menzionati i posti più affascinanti per gli amanti della montagna dalla gola dell'Infernaccio alla grotta della Sibilla con un occhio di riguardo alle leggende che da secoli custodiscono i monti Sibilini che hanno ovviamente colpito la stampa inglese restiamo nelle Marche dopo la firma del contratto di trasporto delle bietole tra associazione di trasportatori o superficie di termoli avvenuto a fine luglio la campagna abieticola è stata avviata proprio a questi giorni nelle Marche lo rende noto Gilberto Gasparoni segretario di Confartigianato Trasporti Marche nelle regioni si è passati infatti dai 900 ettari di superficie coltivate a bietole del 2013 a circa 400 con una produzione che si girerà su circa 300.000 quintali di prodotto annui con gli eventi ora a Castignano l'appuntamento infatti con il Templaria Festival di Castignano giunto alla 25esima edizione nello scenario del suggestivo Borgo Ascolano si rivive tra arte musica e negoastronomia appunto il mondo dei templari servizio nel suggestivo scenario del Borgo di Castignano è tornato il Templaria Festival dal 16 al 19 agosto quest'anno giunto la 25esima edizione organizzato dal locale Proloco come da tradizione si svolge in quattro notti immaginifiche del palcoscenico medievale naturale del paese un tuffo nel passato tra teatro musica e danza per rivivere lo storico universo dei Templari un ricco itinerario a ritroso nel tempo nell'arte nello spettacolo nell'enogastronomia ma anche nella storia e nella cultura del mondo medievale l'edizione di quest'anno è particolarmente sentita per il connubio tra Templaria e la compagnia dei folli quest'ultima è al trentesimo compleanno e ha scelto il palcoscenico di Templaria per festeggiare con il suo pubblico questa ricorrenza la scelta nasce da una profonda amicizia che lega gli attori ascolani a Castignano di anno in anno Templaria ha rappresentato un appuntamento fisso nella tournée estive assistendo di fatto alla crescita e ai cambiamenti che i folli hanno affrontato molti spettacoli inoltre sono stati presentati in anteprima proprio a Templaria dicevamo l'evento festegge sui primi 25 anni di vita un traguardo particolarmente importante per una manifestazione nata nel 1990 e cresciuta fino a diventare uno dei primi festival a tema medievale su scala nazionale il festival è un evento di richiamo per circa 15.000 persone che giungono da ogni parte d'Italia nel 2012 ha ricevuto la medaglia di riconoscimento come rievocazione storica dalla Presidenza della Repubblica ha ricevuto apprezzamenti dal Ministero del Turismo israeliano e dalla città israeliana di San Giovanni d'Acri baluardo storico dei Templari e riceve ogni anno una media di 100 richieste da parte di compagnie di artisti italiani ed internazionali le quali sono interessate ad esibirsi durante le serate del festival torniamo in Abruzzo per le giornate del 28 e 29 di agosto in occasione del corteo storico della bolla delle perdone il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha disposto con ordinanza alla totale sospensione dell'attività in cantieri pubblici e privati operanti in centro storico anche nelle zone collocate all'interno della perimetrazione del centro storico Montesilvano ora con un'ordinanza a favore del libero accesso nelle spiagge il Comune di Montesilvano infatti ha emesso un'ordinanza ad hoc per difendere gli spazi della spiaggia cittadina predisposti per raccogliere disabili nel caso in cui siano occupati in maniera arbitraria da persone che non hanno diritto il prevedimento prevede anche delle multe fino a 200 euro per chi occupa senza averne diritto le zone della riviera dedicata ed attrezzata per le persone affette da disabilità localizzate all'altezza di via Dante a via L'Aquila vogliamo garantire la fruzione di queste aree chi ne ha diritto di chiare il vice sindaco Ottavio De Martini se vogliamo offrire il miglior servizio possibile a chi sceglie Montesilvano per le spiagge accessibili ai cittadini chiediamo la massima collaborazione per tutelare questi spazi torniamo ad occuparci di eventi a Pineto ora più di 10.000 persone hanno riempito nel weekend le vie di Pineto per i tradizionali festeggiamenti della Maria Santissima durante i quali si sono svolti i fuochi d'artificio con il concerto anche di Scialpi ci fa piacere che la nostra città abbia avuto un altro momento di folla come quello di queste sera commentato il vice sindaco Cleto Pallini quest'estate siamo riusciti insieme a tante associazioni a riportare una vivacità notturna come non si vedeva da anni tantissime persone che hanno assistito al corteo di Scialpi idolo delle teenager degli anni Ottante si è esibito lungo il palco sistemato in via Milano e richiamato anche gente dalle città vicine 30 minuti sono invece durati gli spettacoli di fuochi d'artificio che si sono svolti invece ieri sera migliaia di persone a partire dalla mezzanotte poi sono rimaste con il naso all'insù per ammirare ovviamente i giochi pirotecnici ancora eventi restiamo in Abruzzo una giornata dedicata alla musica e alla riscoperta e ai tesori della storia di Mutignano domani martedì 19 agosto il borgo storico di Pineto apre turisti residenti con Mutignano Summer Festival un paese in festa un appuntamento che dal pomeriggio andrà avanti fino a tarda serata abbiamo voluto questa festa per unire tutto il paese ha sottolineato gli organizzatori perché Mutignano ha una grande storia di musica e arte credo che le manifestazioni come queste siano importanti perché puntano ad unire un paese e una comunità ha dichiarato invece il sindaco di Pineto Robert Verrocchio nuovamente nelle Marche fermo d'estate caratterizzata dal mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato la seconda manifestazione delle Marche per numero di espositori particolari nel servizio di Donatella Lappa e Salvatore Serrietello l'estate fermano 2014 caratterizzata come già da diversi decenni dal mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato un appuntamento tutti i giovedì di luglio ed agosto che davvero attrae tantissimi visitatori cittadini turisti tutti a caccia di qualche giusto affare delle cose particolari le cose da mangiare l'artigianato anche le cose artistiche libri usati e tanto altro persino l'etnico e abbiamo parlato con uno dei veterani del mercatino che fa parte dell'organizzazione da sempre Bibi Jacopini Noi abbiamo alle spalle una grandissima tradizione siamo la seconda manifestazione delle marche e abbiamo proseguito da un inizio di 34 bancarelle quasi 200 bancarelle la particolarità ovviamente è che siamo nel centro storico città di Fermo con le sue bellezze e questo crea ogni anno un grosso interesse da parte dei visitatori nata come mostra mercato dell'antiguariato sicuramente dell'artigianato oggi ma anche di vari generi merceologici anche l'etnico sicuramente mantiene il nome dell'antiguariato anche se ovviamente nel tempo di antiquariato vero non ce n'è più perché difficilmente gli espositori portano pezzi importanti sulla piazza l'artigianato siamo molto attenti sull'artigianato sul settore etnico abbiamo avuto questa particolarità di ospitare proprio un mercatino etnico con gli espositori senegalessi con i loro prodotti per noi i numeri sono importanti principalmente per quello che creiamo tipo per l'economia del centro storico per attività commerciali come per i numeri dei visitatori alle strutture museali che sono realmente unici su tutto il panorama dei 365 giorni l'anno il mercatino dell'antiguariato e dell'artigianato di fermo dà appuntamento a tutti gli appassionati per i restanti giovedì di agosto fino alla fine del mese con tante occasioni tanti colori e soprattutto anche l'opportunità di visitare i musei luoghi archeologici più belli della fermo di notte di nuovo in abruzzo in val vibrata ora è attesa per sabato 23 agosto la prima edizione della notte bianca a Sant'Egidio della vibrata organizzata dal comune ovviamente vibratiano in collaborazione con la proloco l'evento prenderà il via alle 20 e terminerà alle 4 del 24 ovviamente la notte bianca è innestata nella sagra nella diciannovisima edizione della sagra degli gnocchi che prenderà il via domani sera l'importante evento culinario organizzato come di consueto dalla proloco Sant'Egidese diretta dal presidente Vincenzo Odorisi ancora in val vibrata mercoledì 20 agosto alle 21 si svolgerà nello scenario di piazza Filippo Peppa Civitello del Tronto la finale di Miss Abruzzo la serata sarà presentata da Roberta Valerio ospiti lo showman Francesco Capodacqua artista a tutto tondo direttamente da Amici e l'emergente cantante Fedi protagonista della trasmissione televisiva Mille Voci in partenza per Boston dopo la borsa di studio vinta all'Umbria Jazz Festival di Perugia tutto lo spettacolo sarà poi in presosito dalla presenza di Giulia Arena Miss Italia 2013 che incoronerà nell'occasione appunto Miss Abruzzo 2014 ancora iniziative ora a Torricella Sicura dove in programma il raduno è questa nel borgo di Valle Piola appunto a Torricella Sicura il raduno il quinto memorial Cesare Foglia si terrà sabato 23 domenica 24 agosto dedicato alla memoria appunto di Cesare Foglia grande appassionato di animali soprattutto di cavalli scomparso nel 2007 il raduno inizierà sabato pomeriggio alle 18 con una serata di musica country insieme al gruppo Whisky e Coca la pagina sportiva ora stessa location lo stadio Domenico di Fabio a piano d'accio di termo stesso spettacolo anzi ridefinito in maniera qualitativamente migliore slitta solo la data di svolgimento da sabato 23 agosto a sabato 6 settembre grosso riscontro in termini di prevendita e interesse da parte di appassionato ha consigliato agli organizzatori dell'edizione 2014 di XED lo show di motocross freestyle di rimodulare gli spazi destinati allo spettacolo principale ma anche soprattutto a beneficio degli spettatori parte attiva dello show in modo da poter godere appieno delle evoluzioni dei motociclisti tutto il resto dello spettacolo su due ruote invece è confermato dalla presenza di otto tra i migliori piloti interpreti della disciplina a livello internazionale dallo spettacolo nella sua evoluzione all'allestimento di un villaggio all'esterno dello stesso impianto sportivo ed ora è il momento di seguire le previsioni del tempo per la giornata di domani in Abruzzo e nelle Marche Buonasera e ben ritornati a questo nuovo appuntamento con le previsioni meteo dell'istituto aeronautico Antonio Rochatelli diamo ora uno sguardo alla grafica che si mostra situazioni in generale per quanto riguarda la penisola italiana come possiamo notare il maltempo è tornato al nord infatti avremo rovesci anche a carattere temporalesco che caratterizzeranno tutta la giornata questi fenomeni saranno alternati a ampi momenti e schiarite per quanto riguarda invece il centro avremo cieli sereni o poco nuvolosi per quanto riguarda le regioni meridionali avremo sole quindi tempo sereno splendente invece per quanto riguarda la Sardegna poco nuvoloso diamo ora uno sguardo invece per quanto riguarda le regioni Marche e Abruzzo cieli sereni anche qui o poco nuvolosi fatta eccezione per qualche addensamento nuvoloso che sarà residuo per quanto riguarda le fasce dell'entroterra uno sguardo alle temperature massime previste che avranno valori che oscilleranno da 29 a 33 gradi vi ringraziamo per l'attenzione da Metro Catelli è tutto al prossimo appuntamento bene con il Metro è proprio tutto noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo proprio seguimento di serata con la programmazione di Super J e vi ringraziamo per l'attenzione